mi sa che non mi incazza eh porco dio dio porco porco dio dio cane porco dio dio porco se venite avanti ancora vi do un pugno porco dio porco dio ma chi è che sa che cazzo del rumore lì dio chi è che continua ad andare avanti in trio dio can con quella porta lì mi pare che stia ma io la fa a posta ma cos'è sto telefono porco dio non possono sbattere le porte ma chi è che il mona che che batte la porta e che chiude urlando ma che oh ma è possibile porco danna la madonna perché chi è che sarà la porta dio cane e a buttare per aria tutto della non so chi cos'è che è caduto dall'altra parte dio no nessuno gesù cristo no nessuno chiudi quella porta lì per favore vada se io trovo quello che mi ha fatto innervosire di ok anche da un pugno perché spacco la testa chiudi chiudi quella porta di qui dai lo troverò quello che è efficiente prima o dopo eh madonna eh mi son sentivo mi son distratto e si eh no 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 fai mona metti una roba tutto metti dio porca madonna di dio se non bestemmio guarda dio cane che non si riesce a capire un cazzo se non bestemmio guarda dio boia se non bestemmio dio cane che è mia una foto Dio boia non torno mia in Drio Dio porco senza le maiuscole senza i punti vaffanculo Dio canoia di Dio vaffanculo Dio porco Dio cane ma non è possibile Dio madonna puttana Dio aspetta che mi fermo un attimo aspetta che mi fermo un secondo grazie a tutti